Cambiano i marchi, le persone restano. Centro spedizioni, ballaggi e logistica in via 25 Luglio a Cava dei Tirreni. Si è svolta presso l'Aula Gemellaggi di Palazzo di Città di Cava dei Tirreni la presentazione della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Equilibri. Il concorso, ideato dalla scrittrice e presidente dell'Associazione Culturale Piazza Navona, Chiara Ricci, con la collaborazione del fotografo Gino Aloisio e il patrocinio morale del comune di Cava dei Tirreni, si rivolge a tutti gli autori maggiorenni e di cittadinanza italiana che abbiano pubblicato la propria opera, in formato cartaceo o in e-book, tra il 1 gennaio 2013 e il 31 ottobre 2019. A prendere parte alla conferenza di presentazione del premio, Chiara Ricci, Gino Aloisio, alcuni giurati e l'artista autore delle opere in ceramica che saranno date in premio ai vincitori del concorso. A fare gli onori di casa, il vice sindaco e assessore alla cultura, Armando Lamberti. Beh, intanto è un piacere ovviamente presentare questa seconda edizione. Le novità sono una giuria molto più ampia e quest'anno abbiamo anche aggiunto una nuova categoria che è la sezione fumetto e graphic novel, che sarà curata appunto nella giuria da Luca Remondo, che è un fumettista di fama nazionale e appunto anche un tradisegnatore di Dylan Dogg per la Bonella Editore. Quindi abbiamo appunto anche altri giurati, tra cui Giancarlo Palumbo, abbiamo Vito Pinto, che già l'anno scorso ci ha onorato come presidente di giuria, Alfonso Bottone, Marianna Ventre. Una nuova entrata in giuria sarà anche senatore Mena. Avremo anche la Marlin, editore di Cavati e Tirreni, tra i giurati. Quindi, insomma, è ovviamente uno sguardo anche all'estero con Franco D'Alessandro, che è un poeta drammaturgo statunitense. Il bando di partecipazione al concorso è già aperto e si chiuderà il prossimo 31 ottobre. Novità di quest'anno è la categoria fumetto graphic novel, che si va ad aggiungere alle sezioni romanzo, racconti, saggistica, poesia, narrativa per l'infanzia. Possono partecipare tutti i cittadini, ovviamente, italiani, che abbiano comunque compiuto 18 anni di età. Il tema è assolutamente libero. Le opere devono essere edite e possono essere sia in formato e-book che cartaceo. L'importante è che abbiano il proprio codice ISBN o il codice ASIN. Ovviamente, appunto, equilibri in quanto equità nell'editoria, quindi si spazierà dall'autopubblicazione, purché abbia appunto queste caratteristiche, sino a un trovare appunto un equilibrio tra la piccola, media e grande editoria. Le premiazioni si svolgeranno sabato 25 gennaio 2020, nella sala di rappresentanza del Palazzo di Città di Cava dei Tirgeni. E nel corso della serata il vice direttore del TG5, Andrea Pamparana, riceverà il premio alla carriera.